Musica Oggi traina con il vivo identici Abbiamo una persona che guardate in barca porta solo che bene E poi un altro che porta bene anche lui ma oggi toccherà lui pescare Io lo scongiuri lo faccio E lui è la persona che porta bene ragazzi Ha preso più identici che me Ho dovuto aggiungerne un pezzo ma va bene Le esche sono state fatte Abbiamo dei bei calamari E niente Ora lasciamo gli ormeggi E andiamo sullo spot Dove è bene essere un dentice Non andiamo meno E' un'altra cosa Che era il tiro? No No Vediamo che ho preso dalla pancia Quando vai giù recuperi Vai giù Ti fermi Tiri Vai giù Guarda che c'è il piombo Piano che c'è il piombo Dove è un indirizzo recupero è bassa adesso recupero è bassa piano snorata snorata che bella 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 ragazzi e vai e vai vai Claudio allora Claudio ora te la bravissimo adesso bisogna portare la barca al lavaggio non è un problema